allora ho provato a lavorare un po' su qualche immagine scopresa no questa qui è inguardabile proprio non si riesce a vedere un tubo questa qui ancora ancora qualcosina si riesce a vedere perché la qualità video è quella che è ovviamente con l'iphone non si può pretendere in più anche il vetro fa le sue scherzette perché se vedi qua si vede qualcosa però già qui è tutto bianco qui deve essere il vetro sporco dell'aereo che una macchia o qualcosa che qui praticamente perdi l'orizzonte ad occhio così con questa luce non si vede niente qua qua si perde proprio sembra che curva una cosa strana ma qui non è una curva qui proprio si vede comunque mi è venuto il dubbio anche a me perché guardando effettivamente sembra che curvi c'è una leggera curva ma insomma è un'impressione quindi ho voluto per questo motivo provare a fare un piccolo test il rosso blu il verde non va bene perché troppo col verde non fa un cazzo il rosso è l'unico colore blu ben che meno perché blu su blu non va bene il rosso è il più adatto per questo tipo di comunque non c'è bisogno che ti arrabbi capisco che ti fa infastidire certe cose perché tu credi nella terra come tutti del resto però non c'è bisogno che ti arrabbi così con le persone tanto non cambia nulla io vedi sono qui sto guardando perché appunto mi hai fatto venire te un dubbio perché effettivamente guardando il tuo video sembrerebbe che c'è una sorta di curvatura ma le luci guarda che eh portano a possono portare all'inganno eh vedi c'è siamo alle solite siamo veramente alle solite cioè se mi sbaglio sarei prima a dirti hai ragione siamo dei coglioni e come dici tu però insomma sembra abbastanza chiaro no così sparisce così ritorno niente l'unico vediamo se no se mi alzo va sparisce con l'altro colore perché vediamo se posso scendere vediamo un po' si scende no si scende ulteriormente vedi c'è l'orizzonte è piatto lo vedi da qui è piatto lascia perdere che c'è da lì si canna l'altura e cose varie questo purtroppo è a causa della è sale è a causa della qualità video e i pixel fanno una puttana vedi qui bisognerebbe avere un video vedi che è piatto comunque l'orizzonte non è che è tipo parte da qua fa così e poi scende un po' giù è proprio piatto cioè lo vedi che è piatto con i suoi pixel un po' a cazzo perché ovviamente ti ripeto il video è quello che è ma è piatto l'orizzonte cioè va verso su anzi parte da qui e va verso su cioè perché cioè non dovrebbe andare verso su se fosse come dici tu che è tondo dovrebbe tipo partire qua tipo non so andare giù qua una cosa così qui è tutto pixelato si capisce poco però insomma se fosse così questo è tutto pieno vedi qui è tutto pieno qui è tutto pieno i colori dicono questo l'orizzonte io lo vedo piatto qua ci vorrebbe un video fatto un po' meglio nel senso senza almeno senza avere il vetro dove riprendi è macchiato perché se io non facevo così io sta zona qui non la vedevo adesso facendo così qualcosina si vede però ci vuole una qualità video un po' superiore un po' migliore capito perché se no il risultato massimo può essere questo più o meno parte da qua e poi finisce su qua e non è normale che finisce qua magari finisce un po' più giù solo che siccome la qualità video è questa perché la terra non è che si si allarga è vero che comunque sia comunque la vedi come la vedi la vedi la terra non è un quadrato è vero però insomma così mi sembra è proprio la qualità video che fa un po' schifo comunque è piatto perché se no vedavi proprio tipo un po' così e poi che scendeva un po' giù ma invece non è così ho voluto fare questa prova perché sembrava effettivamente che fosse un po' curvo ma i dati dicono questo niente vedete si faccia nulla sembra una sorta di curva cioè ma non è così poi i colori ti dicono ti dicono altro questo è perché è un gioco di luci più la qualità video è un po' scarsa qui non vedi nulla vedi para quei colori vedevamo e allora dà la sensazione della rotondità ma in realtà non è così dopo